E' stato il più bravo tornitore dell'azienda Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro? Sì, finissimo Senti papà, io e Chico volevamo dirti una cosa Mi devo preoccupare? Sì Mamma, la sei spusa l'Emilia, te capii? Quanto mi può costare secondo voi tutto? E' che non vedevi l'ora Antonio? Ti vuole sti soldi che c'ha la figlia sola? Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano bene spiegate Lasciali tranquille e aumentare il loro valore Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare? No, devo chiederle di passare un'altra volta Tu non hai avvestito i tuoi risparmi in azioni? Non sarei stato così pazzo? Io ho firmato come sempre, Margherita, non avevo capito Io mi fidavo Non è il momento di fare grandi cose, magari faremo più avanti una festa Che dici? Possiamo fare meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia Io non ho mai messo niente in azioni Non sapevo niente di azioni Io mi fidavo, mi sono sempre fidato Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo Chi ha sbagliato solo io, dimmelo Mi hanno tolto tutto Da un giorno all'altro Non ho più nulla Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni Adesso posso aiutarti? Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta Evviva! Evviva! Ti ricordi come rideva l'Emilia con il gioco del matrimonio? Ta, 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 ta Grazie a tutti